La prima serie, la 4% al femminile, attenzione, soprattutto l'Axitalia Atletica in corse numero 2 con parlazioniste di 3 in ordine. Testimone ora D'Aria D'Ercaz che appena ha chiuso il secondo posto, ha anche il salto triclo, anche a Firenze Marato, D'Odrea Allô, gran frazione per la Porta Nordi del club Fiorentino a lanciare al comando l'appunto a Firenze Marato. Bene, forse a uno della seconda trentina a presentarsi al comando. Grazie a tutti.